Vai! Giuliani Simone, Evolution Program, 4D Experience, qualsiasi piano di 1, 2A più 2B. Barra, questa. Madonna, il dolore. Qui nel video c'è. Ci sei, Simo? Ti ricordi il primo? 5... Provali da 5. I primi due da 5, vedi se ti pesano. Se ti pesano continui da 5, se no li... Se ti pesano li fai da 2 poi. Se no continui da 5. 10. Vai! Aspetta eh! Stendi. 2. Vai! 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10. 10. Fanne i 5. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Ok. Tre. Due. Uno. vai riparto uno due tre quattro ok ragazzi mettete 5 e 5 10 butterfly e cali 10 e cali 10 e cali vai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bravo ecco ecco pure se ce l'hai tieniteli 3 2 1 vai altri 10 6 7 8 9 ok respira 4 3 2 1 chiudi vai 5 6 7 8 9 bravo respira recupera se riesci vai a blocchi da 3 se no troppo aprivo 1 2 3 vai 4 respira 5 6 but recupera 4 5 7 8 9 5 ce ne hai 3 3 2 bravo vai vai 1 2 3 lascia 3 2 1 1 vai gli ultimi 2 1 ok bravo 5 5 5 recupera un attimo o 10 o 10 o 10 5 5 o 4 da 5 vedi come ti senti vai 1 2 3 4 5 6 6 bravo 8 9 ok giù recuperate 2 secondi in 2 e fallo da 10 pure qua dai 3 2 1 vai 3 4 5 6 7 8 9 bravo aspetta un po' e questo comincia a essere più fastidioso drop and go 10 vanno benissimo eh dai 1 2 così così 5 da 2 Maria bravo lascia in sala pesi ci sta una cinta nuova di pelle con le fibbie chiedila a Pierpaolo fatela da nonna vai dai 5 6 lascia 7 dai 1 1 1 1 fatteli subito 1 1 1 1 1 1 dai sali bravo vai di nuovo dai ce l'hai ce l'hai ce l'hai 2 bravo dai aspetta di risalire prima di buttare sali bravo 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 non ha finito qua 2 1 2 3 4 5 6 7 dai 2 1 bravo 7 e 14 6 minuti 3 13 14 12 nel frattempo se ti vuoi rilassare no no dico guarda ci risiamo non è pazzo io non lo so la gente 7 e 14 no che ho detto 7 e 14 intanto ragazzi se volete quanto vuoi mettere di complex quando avevi pensato 100 e le ma fa dando piedi la cinta questa la metti con le fibbie non ti si apre 70 eh no 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 almeno 90 sicuro 90-95 non lo fa 100 non la stringiamo non la respira respira non la stringiamo prima di partire la stringi lascia così lascia così caricate dai mettete vendi e vendi intanto c'hai oh 2-3 minuti poi sta fermo si eridi recupera rimanimi però nell'inquadratura avvicinate il box se vuoi eh bloccavo ho detto 7 e 14 13 e 14 siamo a 9 10 a 11 due minuti rego grazie ma mi sono messo io sono messo io in mezzo che ti senti affaticato assaggio un po' prego assaggio un po' assaggio e muovi muovi le dita apri e chiudi apri e chiudi veloci allunga un po' tanto muovo 1-1-1 lo tiene power hang squat e portalo su come cazzo ti fa ma tu che sei allenata eh mo ti allena mo ti allena metti una faccia brutta ha fatto una faccia brutta ma le 5 e mezza c'ho Roberto vieni con lì tallini con lì si mo adesso stiamo a 11 ti vuoi altre 30 secondi pigliatele mo dai stringi è larga non ti stringe no io parco ci sta una ragazzi voi una cinta non ce l'avete guardate Simo tanto si sgancia no no guarda è meglio che ci parti senza Simo che se ti si sgancia mentre ma sicuro che quella non ti stringe dai 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 che trova mangi dai prendete due e mezzo e due e mezzo no no non inquadro solo perché non posso scadeva a 16 no era 7 e 14 13 e 14 siamo a 12 e 30 tra 15 secondi di partire va bene hai fatto 100 va bene no questo è un aspetta aspetta 10 secondi 5 4 3 2 1 dai che è tuo pure qua dai vai bravo no perde dai dai vabbè 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 stop 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 bravo